Due incidenti sul posto di lavoro si sono verificati ieri mattina a Giulianova a distanza di poche ore, uno dall'altro. Il primo è avvenuto nelle prime ore della giornata coinvolgendo un operario di 44 anni. L'uomo a causa di una caduta è stato immediatamente trasportato e ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Teramo. Poche ore dopo un secondo incidente ha avuto un esito tragico. Un operario di 57 anni è morto sul colpo precipitando da un'altezza di circa 7 metri mentre stava lavorando, secondo una prima ricostruzione, su un trabattello, un'impalcatura mobile con delle ruote durante alcuni lavori di rifacimento al controsoffitto dell'istituto alberghiero di Giulianova. Le autorità locali stanno indagando per accertare se tutte le misure di sicurezza previste siano state rispettate durante l'esecuzione dei lavori. Questi incidenti riaprono un dibattito oramai annoso e drammatico sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sì, nella giornata di ieri abbiamo contato ancora una vittima sul lavoro, ancora una persona che è uscita per lavorare e non è tornata dai suoi cari a fine turno. Drammatica ormai questa situazione che continuiamo a commentare. Non ci possiamo certo abituare a queste notizie, dobbiamo continuare a lavorare affinché queste notizie non ci siano più ma purtroppo ad oggi questi risultati non ci sono perché appunto le vittime continuano ad essere tanti sia mortali ma anche vittime di infortuni che comunque dovrebbero essere evitati. Negli ultimi anni le morti bianche continuano a essere una piaga che colpisce duramente diverse categorie di lavoratori soprattutto in settori come l'edilizia e la manutenzione dove il rischio di infortuni gravi è più elevato e la provincia di Teramo ha fatto registrare dati assolutamente allarmanti negli ultimi anni. Sì, i dati confermano comunque una situazione preoccupante perché tra l'altro c'è il paradosso per cui diminuiscono seppur di poco gli incidenti ma al contrario aumentano quelli che poi sono gli incidenti gravi o gli incidenti mortali per cui a maggior ragione è necessario nei territori come quello per esempio della provincia di Teramo una maggiore attenzione da parte degli antipreposti più controlli, una cultura della sicurezza che parta dalle aziende che veda le aziende davvero coinvolte per far sì che poi i numeri in qualche modo non siano più quelli che stiamo commentando. Per i sindacati nonostante gli appelli è stato fatto troppo poco da parte del governo. Le risposte sono quelle di una proposta di patente appunti che comunque già nasce monca come proposta perché non sarà sicuramente sufficiente per invertire la rotta in questo senso. Noi come CGL nazionale abbiamo anche promosso un referendum che in qualche modo parla proprio di quello che è accaduto ieri perché va a provare a trasferire la responsabilità degli infortuni anche sulla ditta appaltatrice perché ancora una volta l'infortunio mortale di ieri è accaduto in un cantiere con un subappalto. Sappiamo perfettamente che nei subappalti il primo ambito a venire tagliato per abbattere i costi è quello della sicurezza e purtroppo poi gli effetti sono quelli che abbiamo vissuto soltanto nella giornata di ieri.